Grazie a tutti. Un tempo massimo di 15-20 minuti. Prego. Con me c'è il responsabile del settore, l'ingegner Claudio Eminente. Sostanzialmente noi nella nostra relazione diamo evidentemente idea del percorso che si è sviluppato nel aggiornare il piano nazionale degli aeroporti, perché la gara che era stata fatta è antecedente alla situazione Covid e quindi parte come una revisione del precedente piano nazionale degli aeroporti nell'ambito di un procedimento complesso che è descritto dall'articolo 698 del codice della navigazione e che evidentemente vede l'ENAC esclusivamente come un soggetto che propone uno studio al Ministero e il Ministero, il Ministro in realtà evidentemente dà poi a questo un percorso procedimentale che porta anche ai pareri delle commissioni parlamentari competenti, all'intesa con la conferenza Stato-Regioni, alla proposta in Consiglio dei Ministri, credo anche al parere dall'Agenzia del Demanio e da ultimo evidentemente all'esito della delibera del Consiglio dei Ministri ha un DPR. Quindi un percorso assolutamente complesso rispetto a uno studio o comunque a una programmazione che può sembrare marginale ma marginale non è. Tant'è vero che noi nell'ambito di quella che è un po' la rivisitazione anche proprio della revisione del piano nazionale degli aeroporti, all'esito della situazione pandemica abbiamo proposto anche al soggetto che sta elaborando lo studio all'esito di una gara evidentemente di fare proprio un nuovo piano nazionale degli aeroporti tenendo conto di tutte quelle variabili che sono intervenute nell'ambito proprio di quello che è oggi il sistema del trasporto aereo dove evidentemente anche noi sin dall'inizio avevamo descritto questa crisi pandemica come una crisi pandemica AU e quindi facendo il parallelo con quella delle torri gemelle e puntando evidentemente a differenza di quanto era stato detto anche da molti economisti che la ripartenza sarebbe stata una ripartenza assolutamente repentina anche se cambiavano sostanzialmente anche un po' quelle che sono i riferimenti del sistema del trasporto aereo e in particolare noi dicevamo cosa che sta accadendo che ci sarebbe stata un'accelerazione del processo di liberalizzazione e privatizzazione piuttosto che un ritorno al monopolo. Allora detto questo nell'ambito del piano nazionale degli aeroporti è evidente che noi cerchiamo di dare al soggetto che lo sta elaborando degli indirizzi che sono state elaborate con delle linee guida che sono allegate evidentemente alla nostra relazione all'esito delle quali successivamente c'è anche un atto di indirizzo proprio del Ministro Giovannini che in qualche modo rielabora quelle che sono le nostre linee guida in un ambito forse di carattere un po' più generale rispetto agli impatti sulla resilienza trasformativa che in particolare interessa il Ministero anche nell'ambito di quello che è il più ambizioso piano generale trasformativo Nello stesso tempo noi nell'ambito di questo piano nazionale degli aeroporti ripendichiamo il fatto che possa essere il capitolo primo di questo più ambizioso piano generale trasporti proprio perché crediamo che in qualche modo un piano generale trasporti debba avere un'idea di mobilità da cui si parte per svilupparlo in maniera coerente e soprattutto noi diciamo che dal trasporto aereo in definitiva al nostro Paese arriva della nuova ricchezza mentre le altre modalità di trasporto in definitiva sono elementi distributivi di ricchezza quindi nell'ambito di questo noi tendiamo sicuramente a valorizzare le infrastrutture aeroportuali esistenti anche come riserva di capacità tenendo conto chiaramente che nell'ambito di studi internazionali comunque all'esito della pandemia c'è una sostanziale previsione di ripartenza che ricolloca evidentemente il traffico aereo all'esito della parentesi pandemica di due anni su quelle che erano le linee di crescita precedenti quindi un'ipotesi di crescita 8 miliardi di passeggeri nell'ambito dei successivi 20 anni il che significa che evidentemente in carenza di realizzazioni infrastrutturali soprattutto nel nostro continente chi dispone come noi disponiamo di infrastrutture sotto utilizzate che evidentemente ha una residua capacità che permetterà nel futuro di poter intercettare nuovo traffico rispetto alle nostre capacità diciamo aeroportuali che nel tempo proprio grazie alla riforma che è stata fatta 20 anni fa in qualche modo sono state fortemente difese e implementate nell'ambito di questo diciamo anche altre cose importanti cioè di cominciare a ragionare sull'idea di reti aeroportuali e quindi al di là dell'appartenenza l'idea è che in qualche modo si possa semplificare il sistema aeroportuale italiano nell'ambito di un ragionamento di rete che già si è sviluppato in precedenza e che noi tendiamo evidentemente non solo a difendere ma a portare diciamo anche avanti in definitiva noi abbiamo già un sistema aeroportuale Lombardo tra Linata e Malpensa Veneto tra Venezia, Treviso e anche Verona e il sistema romano oggi tra Fiumicino e Ciampino pur avendo tutta una serie di difficoltà nel rapporto con l'ambiente per Ciampino c'è un sistema Calabro che ha tre aeroporti che sono tornati nella disponibilità della regione e quindi Cotone, Lamezia e Reggio Calabria c'è il sistema pugliese che è stato il primo peraltro anche con un procedimento che ha riconosciuto la rete aeroportuale degli aeroporti pugliesi sono quattro aeroporti Foggia, Bari, Brindisi, Grottaglie si sta sviluppando il sistema siciliano orientale Catania-Comiso per Catania peraltro noi individuiamo una forte potenzialità come hub del Mediterraneo quindi ai due hub istituzionali Roma e Milano si è aggiunto uno precedentemente che è l'hub vocazionale di Venezia che ha avuto una crescita importante proprio perché individuato come hub vocazionale oggi noi puntiamo a che anche l'aeroporto di Catania possa svilupparsi come hub del Mediterraneo intercettando tutto un nuovo traffico che evidentemente viene dall'Oriente nell'ambito poi sempre di questa attività che evidentemente valorizza il sistema aeroportuale del nostro paese è evidente che diamo delle ulteriori indicazioni perché si vada e qui evidentemente ci sarà una valutazione anche di carattere politico su un sistema sardo quindi tre aeroporti sardi possano rientrare nell'ambito del DPR come un sistema unico come è stato fatto nel passato col sistema toscano per Pisa-Firenze e quindi in questo caso riusciremo sostanzialmente a individuare quei sette, otto centri di riferimento dove poter fare dei ragionamenti diciamo poi sistemici di sviluppo ad esempio per la regione Puglia noi individuiamo sempre i due aeroporti Bari-Brindi come aeroporti di carattere commerciale a Grottaglie e questo per introdurre anche gli ulteriori elementi di valutazione che facciamo nel nostro studio stiamo puntando alla realizzazione dello spazio porto che era già stato individuato nel 2012 come centro unico europeo per sviluppare volo stratosferico e suborbitale noi oggi a Grottaglie intendiamo sviluppare oltre il volo stratosferico suborbitale anche altre attività sperimentali in particolare delle attività legate al futuro della mobilità che sono i droni peraltro nell'ambito di una gestione unica credo al mondo in cui si parte con un'associazione tra ENAC Stato Maggiore dell'Aeronautica ENAV e Società Aeroportuale proprio perché in qualche modo tutto quello che si sviluppa nell'ambito del futuribile del trasporto aereo anche in ambito duale possa essere convogliato nell'ambito di questo assetto gestionale che ne può determinare sicuramente una maggiore capacità di sviluppo soprattutto nell'ambito di elaborazione di regole che permettono oggi a questi elementi legati all'innovazione tecnologica di avere quel vantaggio competitivo in ambito comunitario che possono permettere rigadute occupazionali di grandissimo interesse nel nostro sistema soprattutto evidentemente in regioni del sud dove già va detto che la regione Puglia rispetto a questo progetto ha pubblicato un bando da 11 milioni per promuovere insediamenti produttivi legati diciamo a tutta questa realtà dell'innovazione tecnologica in più noi sempre nell'ambito di questo studio c'è l'idea della valorizzazione degli aeroporti minori dove peraltro la stessa ENAC ha costituito una in house ricollocando la gestione di 18 aeroporti minori che erano in gestione diretta di ENAC tra cui anche Pantelleria e probabilmente tra qualche tempo anche Lampedusa rispetto alla quale aeroporto c'è stata una procedura di revoca rispetto a situazioni evidentemente di difficoltà nell'ambito di questa della gestione aeroportuale chiaramente questo diciamo questa nostra relazione cerca in qualche modo anche di cogliere nell'ambito di quelle che saranno le vostre riflessioni elementi di supporto proprio perché come dicevo prima nell'ambito di questa complessa procedura è bene cogliere sin da subito evidentemente quelle che possono essere le sensibilità parlamentari in particolare proprio in ragione del fatto che alla fine diciamo il percorso già quello precedente del 2015 è stato particolarmente faticoso e alla fine ha individuato credo che erano trentotto trentotto aeroporti di interesse nazionale di cui alcuni strategici quindi chiaramente noi l'idea è quella che nella prima pagina comunque di questo studio andremo a elencare quei quattordici aeroporti che di per sé sviluppano l'ottanta per cento del traffico di trasporto aereo per dare l'idea che in Italia non è che ci sono tanti aeroporti quanti se ne dicono cioè ci sono infrastrutture che valgono come riserva ma lo sviluppo del traffico è sostanzialmente circoscritto a questi quattordici aeroporti ce ne sono altri evidentemente per arrivare ai trentotto del precedente studio che si sviluppano anche in ragione di quelle che sono le attività diciamo territoriali in qualche modo da parte nostra c'è anche l'idea di rispettare la vocazione territoriale e quindi le politiche territoriali di sviluppo legate agli aeroporti proprio perché c'è nell'ambito di quella regolamentazione comunitaria della rete TEN l'idea che comunque nell'ambito di ogni singola regione ci sia un aeroporto di riferimento e nella rete TEN entrano gli aeroporti con capacità passeggeri superiori ai 5 milioni di passeggeri e però un aeroporto per regione viene considerato come un aeroporto sicuramente di interesse da ultimo chiaramente noi svilupperemo uno studio particolare e quindi uno forte approfondimento sul cargo quindi il cargo oggi sta vivendo una stagione felice in cui si sta sviluppando ciò anche in ragione del fatto delle difficoltà dei collegamenti passeggeri e quindi in qualche modo quel merci che venivano portate in pancia dei aeri passeggeri oggi non trovano lì evidentemente soddisfazione e chiaramente però questa implementazione di grandissimo interesse ha bisogno anche lì di una valutazione per individuare quali possono essere diciamo gli scali dove questa attività in particolare si può sviluppare io non so se ci sono cose da aggiungere ah vabbè l'intermodalità sicuramente è di grandissima importanza nel senso che nell'ambito di questo studio noi peraltro abbiamo messo un comitato di direzione in cui abbiamo chiesto anche di indicare cosa che ha fatto esperti non di materie aeronautiche e quindi delle altre modalità di trasporto e quindi l'elemento dell'intermodalità è un elemento fondante diciamo di questo studio così come fondante è anche l'elemento della resilienza trasformativa come avevamo detto prima quindi diciamo i connotati di tutto quello che può essere poi l'elemento che integra il PNA nell'ambito del più ambizioso piano generale trasporti ci sono assolutamente tutti e nell'ambito di questo chiaramente c'è una discussione anche interna e quindi nell'ambito di questo comitato di indirizzo proprio su le distanze minori che evidentemente tendono rispetto anche alla discussione che c'è stata in Francia su diciamo anche requisiti di carattere ambientale e quant'altro l'idea che tratte minori possono non essere utili chiaramente c'è da dire che queste tratte servono anche per alimentare il traffico di aerei nazionali rispetto a destinazioni intercontinentali al contrario è evidente che se manca un Napoli Roma poi diciamo i viaggiatori di Napoli che devono andare oltre oceano saranno indirizzati più facilmente su hub continentali e non sull'aeroporto di Fiumicino che diventa un po' diciamo almeno per la politica che si sta sviluppando adesso il centro collettore del traffico della nostra compagnia di riferimento nazionale ovvero di quella compagnia che nell'ambito della privatizzazione comunque garantirà queste rotte di carattere intercontinentale che chiaramente sviluppano i traffici anche per le ricadute che ci sono nei settori contigli ecco forse va detto anche questo nell'ambito di quello che il nostro studio chiaramente valuteremo anche le interconnessioni che ci sono tra trasporto aereo ed altri settori produttivi del nostro paese grazie avvocato di palma io comincerei a raccogliere gli interventi chi vuole parlare benissimo allora onorevole cantone grazie 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 la relazione dicevo innanzitutto vi ringrazio il presidente di palma stavo leggendo alcuni punti della relazione qui si fa la prospettiva da qui al duemilatrentacinque per superare trecento milioni di passeggeri l'anno leggo anche di una maggiore specificità per ogni aeroporto quindi superare la distinzione che c'è oggi tra aeroporti minori e aeroporti di interesse nazionale magari con una maggiore analisi delle pericolari chiaramente tutti questi tutta questa crescita che si prevede tutti ci auguriamo da qui al duemilatrentacinque prevederà un forte una forte capacità di queste infrastrutture aeroportuali di poter intercettare il passeggero e offrire servizi al passeggero una cosa che volevo chiedere è se c'è allo studio di ENAC la possibilità visto che comunque è già normata dal manuale di aeroporto che l'ENAC insieme al gestore aeroportuale studia e propone di migliorare analizzare lo stato dell'arte sul safety management system perché ci sono alcuni aeroporti soprattutto nel meridione in cui purtroppo ci sono problemi di security soprattutto negli ultimi due anni sono sempre più evidenti è chiaro che il manuale di aeroporto regola già il capitolo del safety management system però se allo studio magari una revisione o una maggiore attenzione semplicemente come indirizzo perché è già tutto normato però purtroppo si verificano spesso degli episodi che poi alla fine vanno a macchiare l'attività dell'intera infrastruttura aeroportuale parlate in questa relazione anche di un di una società in house un enac service sarà un un enac servizi sarà per gli aeroporti minori oppure sarà distribuita in tutte le infrastrutture aeroportuali questa è una domanda che mi viene leggendo questa relazione un altro un altro argomento che ci tengo a sottolineare è la questione dei droni per quanto riguarda l'utilizzo dei droni in questi anni si sta sviluppando sempre di più da parte dei professionisti che purtroppo in alcune aree del nostro paese tipo delle città vicine aree industriali hanno purtroppo hanno la possibilità di accesso utilizzando droni mi riferisco a architetti o ingegneri che devono realizzare delle infrastrutture e fanno uso sempre più spesso di droni se si sta prevedendo di semplificare magari non a scopo ludico ma a scopo professionale l'autorizzazione ad alcune tipologie di droni potrà essere argomento da sviluppare nel piano nazionale aeroporti per quanto riguarda invece le reti aeroportuali credo che sia naturale da qui dal 2035 lo sviluppo di queste reti che vanno anche oltre i due o tre aeroporti che ci sono oggi le reti che ci sono attuali tipo aeroporti di Puglia aeroporti di Milano in Sicilia ad esempio Catania e Comiso si sono costituite rete aeroportuale da poco però è chiaro che sarebbe ideale uno sviluppo in prospettiva di tutti e tre o quattro gli aeroporti comprendendo Trapani e se ci sono degli studi che state sviluppando per fare in modo che tramite la peculiarità degli aeroporti quindi attraverso anche lo studio degli aeroporti che esistono semplicemente per il volo di porto sportivo in realtà sono centododici gli aeroporti in Italia però chiaramente non sono tutti utilizzati dal traffico civile ci sono aeroporti militari quindi una maggiore distinzione fra tipologie di aeroporti è prevista in modo dettagliato e se si è integrata ovviamente verrà integrata alle reti aeroportuali ci saranno dei criteri di valutazione al di là del numero dei passeggeri degli aeroporti ogni anno vedi la tipologia di traffico sportivo piuttosto il traffico cargo oppure le aree militari che sono vicine alle infrastrutture portuali per adesso solo questo grazie grazie onorevole onorevole Garini grazie presidente ringrazio il presidente di palma per la sua cortesia per la relazione che ha fatto ovviamente noi esamineremo dovendo poi dare il parere il piano quando verrà predisposto rispetto alle osservazioni che ha fatto volevo chiedere alcune questioni dunque il presidente ci ha parlato della gara per individuare un gruppo di soggetti con esperienze nel settore per predisporre l'aggiornamento volevo chiedere la gara è già stata giudicata quindi ci sono c'è già un gruppo di professionisti che opera e voglio sapere se potevate darci indicazione dei tempi preventivati per lo meno per cui si può sapere quando avremo una bozza di lavoro da parte di questi professionisti che immagino opereranno sulle linee guida che avete predisposto che ci avete presentato seconda cosa sul il documento che ci avete presentato contiene delle previsioni di incremento del traffico passeggeri su scala nazionale e sono previsioni adesso non ho presente gli ultimi dati dopo la pandemia covid del traffico passeggeri sul trasporto aereo però i dati mi sembrano proiettare un grande incremento del trasporto aereo allora volevo chiedere nei giorni passati abbiamo letto da più parti sui media del fatto che alcune relazioni servite dall'alta velocità abbiano visto un decremento del trasporto aereo perché su alcune tratte il treno molto competitivo quindi volevo chiedere nonostante quindi la concorrenza su tratti importanti penso alla più importante la Milano Roma del trasporto aereo voi preventivate comunque un così grande incremento del trasporto aereo si sa anche su quali tipo di relazioni determinano questo incremento cioè traffico internazionale movimentazione all'interno del del paese terza questione noi avremo presto calendarizzato in commissione un provvedimento una risoluzione che già calendarizzata per cui immagino ci saranno alcune edizioni per cui immagino quella di ENAC sul tema delle politiche di incentivazione da parte dei gestori aeroportuali rispetto a compagnie che si impegnano a portare il nuovo traffico nella procedura di privatizzazione in corso di ITA per quanto si legge sui media alcuni acquirenti avrebbero chiesto un impegno del governo per frenare o comunque rendere più vincolanti le procedure per queste incentivazioni allora io volevo avremo modo di parlarne diffusamente però volevo capire come secondo voi le politiche per lo meno per il passato di incentivazione hanno concorso e si hanno concorso a incrementare lo sviluppo del traffico su aeroporti non dico minori sotto milioni di passeggeri ma su aeroporti penso Bologna che invece che minori non sono ma che hanno avuto un incremento notevole di traffico quarto punto il traffico cargo voi ne avete parlato è un tema che è stato sollevato più volte in questa commissione quando parlavamo del dissesto dell'Italia e del rilancio di Ita assistiamo da quanto si legge sui giornali al fatto che il global carrier i grandi i gruppi dello shipping stanno procedendo ad entrare nelle compagnie aeree nazionali penso al al CMA in Delta e France penso all'ipotesi di MSG dentro Ita penso a MERS che ha fatto la propria compagnia aerea questo visto che voi siete anche ENAC è il punto di riferimento internazionale del sistema di governo dell'aviazione civile anche con il modo lente che viene preso a modello da tanti altri paesi del mondo voi avete idea di come possono essere i trend di evoluzione del trasporto merci come possono caratterizzare l'assetto degli aeroporti cioè si ha dinamiche diverse il trasporto merci rispetto al trasporto passeggeri circa la destinazione degli aeroporti si concentra in aeroporti diversi si concentra in fasce rare diverse cioè vorrei capire se questo è solo una questione di volumi che cambiano o è una questione anche di cambiare il layout delle nostre infrastrutture per far fronte a una domanda che ha caratteristiche nuove grazie grazie onorevole Gariglio onorevole Barbuto sì grazie anche io volevo ringraziare il presidente di PAN per la relazione molte delle domande che avrei voluto porre sono state già poste dal collega Cantone però mi resta quindi a questo punto da fare un paio una richiesta di un paio di precisazioni intanto lei oggi ci presenta le linee guida sostanzialmente che vengono che dovrebbe rassistere la società che ha vinto per il bando per poter realizzare il nuovo piano nazionale aeroporti e questo però non lo so dal decreto non si evince quando sarà completato questo piano prima di entrare in vigore verrà sottoposto nuovamente all'attenzione della commissione oppure sarà automaticamente no lo chiedo perché siccome per esempio per il contratto del rinnovo del contratto RFI praticamente mi pare che ci sia esclusivamente un discorso preventivo a me interessava saperlo anche in relazione come può ben immaginare essendo calabrese e segnatamente di uno degli aeroporti che fa parte della rete Calabra Crotone che viene definito il terzo mi dispiace molto perché una volta era il primo ma non voglio fare polemiche in retrospettiva voglio guardare in futuro e vorrei capire nell'ambito della rete appunto aeroportuale quale potrebbe essere la sorte di un aeroporto come quello di Crotone anche in relazione a quello che è il problema della continuità territoriale che la zona ha ottenuto già da diversi anni proprio per uscire dall'isolamento e dalla carenza infrastrutturale quindi al di là di quelle che potrebbero essere le caratteristiche che collocano l'aeroporto di Crotone nell'ambito dell'aeroporto che dovrebbe essere destinato ad un aeroporto di aviazione generale se ho ben capito dando un'occhiata molto sommaria mi riservo di leggerla con attenzione insomma vorrei avere dei chiarimenti anche perché insomma sarei davvero appunto curiosa in relazione a questa non solo curiosa veramente molto preoccupata per quello che è il futuro del nostro scalo crotonese quindi sono molto interessata alla sua risposta la ringrazio grazie onorevole Barbuto onorevole Nobili sì grazie presidente grazie al dottor Di Palma per averci anticipato questo lavoro molto importante significativo che poi valuteremo nella sua complessità al termine del suo sviluppo tra le cose su cui lui ha insistito nel presentarci il lavoro ho trovato molti elementi di interesse mi permetto di fare un paio di richiami il primo è quello di tener presente sempre un criterio di sostenibilità e un criterio di competitività rispetto ai nostri scali perché sono molto vere le cose che ci ha detto soprattutto e che anzi ENAC aveva saggiamente previsto sulle modalità anche molto rapide della ripartenza del trasporto aereo come ci ha detto e i numeri lo stanno a testimoniare diciamo quindi anche le previsioni diciamo ottimistiche per il futuro sono assolutamente legittimate da questa ripartenza sprint come dire del mercato del trasporto aereo e però sono vere le cose che sono state dette ad esempio su due aeroporti Catania e Venezia che hanno avuto una sviluppo forte però insomma invito a non sottavutare sempre anche nell'ottica che si è citata dello sviluppo e della ripartenza e della sostenibilità della compagnia di riferimento nazionale delle sue strategie insomma l'importanza la strategicità dei nostri scali più competitivi in particolare Roma e Milano da questo punto di vista un investimento e un'attenzione peraltro sono scali che stanno continuando a investire pochi giorni fa c'è stata il presidente di Palma era tra i protagonisti l'inaugurazione di una nuova ala di fiumicino molto importante quindi insomma nella giusta e doverosa la parte di ENAC attenzione a tutto il sistema alla costruzione di un piano nazionale aeroporti che sia equilibrato mi permetto di richiamare sostenibilità e anche competitività con gli scali che possono meglio garantirla e poi è arrivato alla fine della sua relazione per noi davvero molto strategico il tema dell'intermodalità anche nell'ottica delle cose che ho detto poco fa anche nello sviluppo del lungoraggio che per noi per questo paese è fondamentale e anche per la costruzione delle reti di aeroporti di cui lei ha parlato lo strumento dell'intermodalità la connessione con altre modalità attività è assolutamente fondamentale e si inserisce sia nelle dinamiche previste dal PNRR sia dall'obiettivo di transizione ecologica che ci siamo dati come paese infine un ultimo richiamo perché è uno degli obiettivi e dei e delle e delle come dire di compiti strategici di ENAC c'è anche il profilo della sicurezza ed è insomma rispetto anche a alcune cose che sono uscite sulla stampa e che hanno in questi ultimi giorni creato un po' di allarme relativamente in particolare ad un volo di lungo raggio appunto che avrebbe lasciato senza segnali e senza risposte per diverso tempo con dei problemi connessi la compagnia ITA ha già risposto anche a mezzo stampa con delle anche con delle decisioni che sono state assunte discutibili o meno ma insomma anche oggi la stampa torna sull'argomento volevamo capire anche se ENAC aveva valutazioni in tal senso perché insomma profilo della sicurezza è ovviamente importantissimo per un comparto come quello del trasporto aereo grazie grazie chiedo se ci sono altri interventi anche da parte di chi ha collegato non mi pare allora do la parola all'avvocato di sì 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 presidente mi voglio scusare con lei e con il presidente di Palma ma la presidente commissione questione regionale ha avuto un problema e la devo sostituirla alle alle sedici e trenta perché devo presiedere invece sua quindi scusatemi ma dovrò allontanarmi cinque minuti prima per andare a San Macuta per agevolarla diamo magari prima le risposte all'onorevole Gariglio così poi può andarsene e successivamente agli altri va bene? Assolutamente ma penso che in venti minuti risolviamo tutto non penso che abbiamo da replicare più di tanto perché tendenzialmente le domande trovano già risposte alla nostra relazione quindi sì l'onorevole Gariglio credeva se abbiamo già affidato i lavori sono stati affidati il nome della società non lo so ma sicuramente Icom la società che è un consorzio fa riferimento a Stefano Paleari sostanzialmente come capofila dell'Università di Bergamo sì comunque si stanno già sviluppando i confronti con noi nell'ambito delle linee guida nostre e quindi noi confidiamo a settembre di poter avere già una prima bozza e un documento che viene rielaborato da Enac quindi non è che c'è uno studio affidato all'esterno e questo studio esterno viene trasferito al Ministero lo studio è per l'Enac l'Enac verifica se questo studio è coerente con le linee guida elaborate da Enac perché queste sono state date alla società è evidente che noi abbiamo poi un atto di indirizzo del Ministro e quindi rielaboriamo lo studio poi sulla base di quello che è l'atto di indirizzo del Ministro e a quel punto mandiamo al Ministro una prima bozza di documento che evidentemente poi viene definita nel tempo e comunque poi arriva per i pareri della competente commissioni nell'ambito di quello che è il procedimento che deve avviare il Ministro Giovannini e non certo l'Enac a maggior supporto di quello che ha detto il Presidente noi attraverso il nostro team di specialisti abbiamo degli incontri periodici di fatto settimanali col gruppo degli esperti e quindi lavoriamo veramente a stretto contatto con loro un altro aspetto è che rispetto al piano precedente questa volta porteremo avanti anche lo studio di valutazione ambientale strategica col Ministero della Transizione Ecologica cosicché alla fine diciamo avremo un documento e lo studio sta per partire entro giugno in modo tale che alla fine avremo sia aver completato la VAS che il documento il piano nazionale degli aeroporti questo era l'elemento forse più importante cioè nel senso che si sta facendo già una valutazione VAS che quindi evidentemente permette al PNA di avere una valenza anche ambientale di grandissimo interesse per quanto riguarda l'incremento del traffico che era l'altra sottolineatura dell'onore è chiaro che noi siamo posizionati in una mediana valutazione che era stata fatta dagli economisti e che tra virgolette non corrisponde neanche molto alla realtà cioè nel senso che c'era una più attendibile ripresa del traffico al 2019 al 2023 come minimo e se no si arrivava al 2028 per recuperare il traffico del 2019 ad oggi siamo già a un forte recupero rispetto al 2019 almeno per alcuni aeroporti per quello dicevo c'è sicuramente una forte ripartenza una forte ripartenza che è legata a un'accelerazione del processo di liberalizzazione e però c'è una modifica sostanziale anche dei traffici negli aeroporti ciò anche in ragione diciamo delle vicende ucraine che è chiaramente anche diciamo un po' di quello che era il traffico soprattutto che veniva dalla Cina quindi c'è una modifica sostanziale di quello che è il traccio detto però noi verifichiamo un'implementazione importante di traffico domestico sicuramente e quindi peraltro abbiamo già sottolineato questa fidelizzazione che ha creato la pandemia degli italiani sull'Italia che ha fatto scoprire tra virgolette regioni che tra virgolette reputavano sicure ad esempio Sicilia noi abbiamo Palermo e Catania già in una crescita esponenziale tra traffico domestico e traffico comunque internazionale che supera il traffico del 2019 in maniera sicuramente importante per quanto riguarda in particolare l'incentivazione del degli operatori aeroportuali verso i vettori tra virgolette io ho una mia posizione personale in cui avendo seguito sin dall'inizio tutto il processo di liberalizzazione e privatizzazione ho avuto tra virgolette l'interlocuzione all'epoca con il Digitren che era Eral e quindi si avviava questo processo sicuramente anche in favore delle compagnie Locost tanto che Ryanair arriva in Italia ad Alghero e a Trieste come prime due destinazioni destinazioni che erano state abbandonate poi dal vettore di riferimento nazionale perché non aveva più l'obbligo di garantire determinate rotte in ragione al fatto che non esisteva più l'autorizzazione ministeriale quindi le Locost scoprono questi aeroporti abbandonati perché nel frattempo la controrivoluzione del Grandfather Rights nei grandi aeroporti determinava il fatto che queste nuove compagnie che avevano sicuramente la possibilità di operare nel continente senza restrizioni invece con il nuovo regolamento il regolamento sugli slot trovavano difficoltà a entrare negli aeroporti saturi da lì in qualche modo si inventano questa politica di sviluppo del loro traffico sugli aeroporti abbandonati dalle major e in particolare Ryanair in Italia entra ad Alghero e Trieste anche garantiti da sovvenzioni regionali e c'è un traffico che cresce e a quel punto il traffico aeroportuale non è più un'economia di scalo ma diventa un'economia del territorio nonostante le segnalazioni che venivano fatte in ambito comunitario la comunità non è mai intervenuta perché evidentemente non c'era l'idea di acquisire consenso nel reprimere queste attività che pure non erano in linea con le regole comunitarie successivamente va anche detto che al contrario l'Europa riallinea queste capacità di poter supportare evidentemente anche l'operatore nell'ambito in cui queste sono da riconoscere come diciamo operazioni di mercato quindi con uno studio universitario questo viene garantito e quindi queste operazioni che in qualche modo sono di incettivazione sono incettivazioni assolutamente coerenti con il quadro comunitario c'è anche da dire che nello stesso tempo a oggi noi abbiamo l'idea che finalmente anche ITA compagnia di riferimento nazionale si sta attivando per avere incentivazioni laddove mette in particolare a disposizione nuovi collegamenti proprio l'altro giorno mi dicevano che hanno fatto un accordo con l'aeroporto di Torino per garantire determinate tratte ragione di incentivazione all'operatore coerenti con il sistema quindi sicuramente ci sarà questa pregiudiziale nella privatizzazione però va vista con assoluta coerenza con quello che è il quadro di riferimento sicuramente comunitario nell'ambito sicuramente di un'attività che può svolgere l'ENAC per garantire che questo accada nella massima trasparenza e che non ci sia discriminazione tra un operatore e un altro va anche detto che all'epoca le compagnie Locosta approfittavano degli orari in cui non era l'aeroporto presidiato da gli operatori di riferimento nazionale e quindi avendo comunque a disposizione personale potevano garantire a basso prezzo evidentemente questo tipo di nuovi collegamenti quindi è una situazione sicuramente da discutere nell'ambito di una coerenza con l'attività con la regolazione comunitaria e con la trasformazione sostanziale di quelli che sono oggi i riferimenti veri del traffico aereo cioè io credo che nell'ambito del processo di liberalizzazione c'è anche una modifica sostanziale del riferimento all'operatore come diciamo dominus del traffico aereo cioè io credo che al contrario oggi bisogna cominciare a ragionare sul fatto che i soggetti che determinano il traffico sono gli aeroporti e non sono più gli operatori proprio per quello noi stiamo sviluppando una politica di rete cioè creare comunque una massa importante che riesce in qualche modo a contrattare in maniera adeguata con l'operatore evitando che un aeroporto ad esempio Forlì Rimini facciano una guerra a chi fa il prezzo più basso e quindi nell'ambito di questa rete creare dei soggetti che contrattualmente riescono a garantire evidentemente un rapporto tra virgolette equo anche con l'operatore un operatore che comunque nel tempo si sta trasformando quindi va anche detto che quelle che erano le low cost aggressive nei confronti delle major oggi sono degli operatori continentali e secondo me non hanno neanche più da essere qualificati come low cost per quanto riguarda il traffico cargo è chiaro che noi stiamo valutando con particolare attenzione quelli che sono gli sviluppi ma sono chiaramente sviluppi che sono anche determinato dalle realtà territoriali quindi in particolare c'è attenzione su Comiso dove c'è un progetto di questo tipo c'è attenzione su Grottaglie dove è appena arrivato un progetto di questo tipo c'è Malpensa in particolare che c'è anche tutta una carella ambientale sullo sviluppo della zona cargo c'è sicuramente un centro molto importante che noi già all'epoca avevamo in qualche modo difeso proprio per questa potenzialità che aveva che Brescia Montichiari su cui da tempo c'è un dibattito molto importante in cui è evidente che al centro della Padania aveva tutte le potenzialità per diventare un centro cargo nazionale di grandissimo interesse è chiaro che noi nell'ambito del PNA possiamo segnalare queste esigenze e possiamo segnalare queste vocazioni che si possono dare a determinati aeroporti però sottolineando il fatto che il problema del cargo è che un aereo deve partire pieno e deve tornare pieno se no non ha evidentemente una potenzialità economica per stare sul mercato quindi in alcune realtà meridionali in particolare è sicuramente qualche cosa di più complicato giusto per integrare l'aspetto cargo perché lei in qualche modo chiedeva se c'erano diciamo delle logiche diverse tra lo sviluppo e il traffico passeggeri piuttosto che quella cargo in realtà è così nel senso che il trasporto passeggeri in qualche modo è anche orientato da parte degli aeroporti che in qualche modo cercano di attirare il traffio il trasporto cargo in realtà è orientato dalle merci cioè praticamente sono diciamo i soggetti che poi trasportano con i loro aeroplani le merci a orientare il trasporto cargo nel senso che dipende da dove queste merci devono partire e dove devono arrivare quindi le scelte sono pilotate dai dagli operatori cargo in realtà e e sono accompagnati da uno sviluppo altrettanto importante della logistica perché chiaramente una volta che l'aeroplano arriva con le merci poi le merci devono essere distribuite sul territorio mentre nel passato c'era soprattutto una evoluzione del trasporto cargo su gomma adesso diciamo c'è un'attenzione al trasporto cargo per via aerea bisognerà ovviamente cercare di renderlo compatibile con le situazioni ambientali perché i policargo volano soprattutto di notte questo è chiaro ma sono diciamo le merci che scelgono piuttosto che l'aeroporto a orientare determinate scelte bene poi per l'onorevole Cantone sì effettivamente noi diamo però credo che sia pre cioè quindi la proiezione al 2035 di 300 milioni è chiaro che oggi è una proiezione cauta e però tra virgolette noi oggi stiamo ancora vivendo una ripartenza e non sappiamo ancora bene gli effetti della guerra ucraina se si riflette non tanto direttamente ma indirettamente in ragione di una crisi economica e una lievitazione dei costi quindi c'è tutto un tema legato evidentemente anche alla possibile inflazione e ai maggiori costi soprattutto in parlare del carburante che già in qualche modo si stanno riflettendo ad esempio sui collegamenti dai per pantelleria con gli oneri di servizio pubblico dove chiaramente c'è la richiesta di una compensazione importante per i maggiori oneri di carburante e anche lì c'è un elemento di forte difficoltà così come per gli appalti cioè avendo sotto un contratto non è facile evidentemente poter ristorare ulteriormente per una situazione sicuramente anomala ma ancora non normata in maniera adeguata sì è stato uscito anche infatti speriamo si dicevo è uscito settimana prossima il decreto che ha consentito l'adeguamento dei costi per il carburante anche sulla parte Lampedusa Pantelleria con Palermo Catania e poi invece per questo problema del safety marginal system chiaramente non è solo quello il problema oggi della ripartenza nel senso che noi in qualche modo abbiamo verificato che quella fidelizzazione del professionista con l'aeroporto all'esito di un lungo periodo di pandemia è venuta un po' meno quindi in alcune situazioni abbiamo una carenza di personale professionalmente qualificato perché attratto nel tempo anche da altre attività e quindi in particolare stiamo se posso integrare come purtroppo l'italiano in questo caso non ci aiuta nel senso che sicurezza si traduce in inglese sia in safety che in security in questo caso del safety management system ha a che fare con la safety piuttosto che la security e riguarda praticamente un requisito internazionale normativa internazionale sia da parte di CAO sia europea con le ASA in modo che tutti i soggetti certificati mettano in piedi un sistema di controllo al loro interno che vada a individuare quelli che sono diciamo gli hazard quindi in funzione degli hazard individuare rischi e quindi individuare quelli che sono che è la configurazione quindi se il rischio è accettabile o meno e laddove non è accettabile individuare quelle misure di compensazioni che lo rendono accettabile l'aspetto della security invece è disciplinato non tanto da una normativa di sicurezza delle ASA piuttosto del legao ma da parte della commissione europea direttamente che emette dei regolamenti e quindi poi effettua delle verifiche presso gli aeroporti degli stati membri quindi diciamo i margini da parte nostra come autorità nazionale di incidere sulla normativa europea è diciamo circoscritto all'ambito delle discussioni in ambito europeo o in ambito internazionale laddove vengono presentate le modifiche gli emendamenti e regolamenti per quello che riguarda noi ovviamente c'è attenzione se parliamo della security a verificare attraverso il nostro nucleo rispettivo che effettivamente i requisiti siano soddisfatti da parte dei gestori aeroportuali per quanto riguarda invece Enac Service come avevo detto prima gli aeroporti minori sono quelli non commerciali l'unico di carattere commerciale è Pantelleria quindi sono 18 aeroporti che evidentemente sviluppano un traffico di aviazione generale o ultraleggero avanzato e Enac Service si occupa anche di formazione e di relazioni internazionali non istituzionali proprio per poter dare delle risposte anche a tutta una serie di attività che stiamo sviluppando nell'ambito di accordi internazionali ultimo ad esempio quello con il Congo che tra virgolette è stato speso anche dal Ministro Di Maio nell'ambito della sua missione come un momento di relazione internazionale già definito per quanto riguarda i droni sì da parte nostra c'è l'idea di una forte semplificazione delle procedure con un elemento di difficoltà rispetto anche alle perimetrazioni intorno chiaramente a uffici locali sensibili e quant'altro su questo stiamo cercando di fare dei ragionamenti all'interno anche di Enac anche per garantire tutti quegli accordi che stiamo sottoscrivendo da ultimo con il Sindaco di Firenze per dare una proiezione di città digitalizzate e quant'altro che chiaramente nell'ambito delle nostre antiche città non è cosa sicuramente semplice probabilmente qui chiederemo alla Presidente anche qualche intervento di carattere normativo nell'ambito di quelli che potranno essere delle prossime norme dovrebbe esserci un decreto semplificazione in arrivo su cui evidentemente c'è anche una proposta nostra peraltro di semplificazione delle procedure per le realizzazioni aeroportuali e sempre sottintendiamo una difficoltà dell'ENAC e del mondo aeroportuale rispetto al fatto che non è incluso nel PNRR anche avendo una capacità di spesa sicuramente importante e capacità realizzativa nell'arco temporale del PNRR sulle reti aeroportuali credo che abbiamo già detto di tutto l'idea nostra sicuramente è quella di consolidare queste reti anche in ragione e poi di una capacità contrattuale e però anche qui forse c'è da chiedere un intervento di carattere normativo che modifica quella procedura di rete che è stata adottata peraltro per la Puglia perché farà ginosa e lunga e poi arriva un risultato che tendenzialmente è anche contrastante cioè parifica i diritti tra un aeroporto maggiore e un aeroporto minore dove al contrario se uno può sviluppare un aeroporto minore probabilmente c'è necessità che il maggior costo sia in qualche modo nell'aeroporto più grande favorendo diciamo un costo minore nell'aeroporto più piccolo sono ragionamenti che potremo sicuramente sviluppare nel tempo da ultimo diciamo per quanto riguarda Crotone è chiaro che noi stiamo sviluppando ma non solo per la Calabria ma in generale un forte rapporto territoriale in particolare con i presidenti di regione quindi l'abbiamo fatto in Toscana l'abbiamo fatto in Calabria l'abbiamo fatto in Puglia in particolare in cui evidentemente il ragionamento con le autorità territoriali ci permettono poi di condividere dei percorsi di sviluppo degli aeroporti in maniera coerente anche però con quello che è il bacino di riferimento territoriale è evidente che Crotone oggi può avere la necessità sempre di collegamenti diciamo con oneri di servizio pubblico però c'è da capire quali altre attività si possono sviluppare nell'ambito dello stesso aeroporto su questo lo stesso presidente della regione Occhiudo ci ha dato delle garanzie da poco è stato nominato il nuovo amministratore della società con cui peraltro credo che domani abbiamo una prima riunione sulla da ultimo diciamo tutto quello che dice l'onore nobili evidente credo che sia l'elemento centrale sia questo problema che si è verificato con i piloti ITA di cui uno è stato evidentemente licenziato già alla presidente io avevo trasmesso una serie di note in cui si dava atto che sostanzialmente per quanto ci riguarda sicuramente è un inconveniente grave e quindi c'è stata una comunicazione alla NSV che indagherà chiaramente sul come perché per le notizie che abbiamo noi c'è stato un problema del comandante che evidentemente non ha rispettato quelle che sono le procedure nel senso che la procedura prevede la possibilità per copilota di poter anche riposare però diciamo gli assistenti di volo dovrebbero ogni venti minuti diciamo bussare diciamo alla porta per verificare che il comandante sia operativo pare che questo non sia accaduto pare però non mi sembra corretto dirlo qui che nell'ambito di quelle che sono state le contestazioni ci siano state delle forti incongruenze nella risposta da lì credo che sia nata questa diciamo determinazione edita nel licenziamento nello stesso tempo le notizie di giornale parlavano di sicurezza di orari assolutamente no gli orari sono quelli diciamo riconosciuti dalla regolamentazione comunitaria tutte le verifiche che noi abbiamo fatto anche sulla formazione del pilota sono coerenti nel senso che noi abbiamo esentato i piloti provenienti dall'Italia su percorsi formativi questo è un comandante ex all'Italia e quindi era esentato così come gli altri da un percorso formativo perché ritenevamo così come peraltro riconosciuto anche dalle ASA quindi non era solo una diciamo volontà dell'autorità nazionale ma era stata condivisa con le ASA questa procedura e sicuramente risultava del tutto coerente per quanto riguarda l'attenzione poi non solo alla sostenibilità compatibilità e credo che l'ingegnere Eminente ha già dato una risposta nel senso che il PNA parte proprio da valutazioni di carattere ambientali è chiaro che la forte attenzione da parte nostra su Roma e Milano è particolare nel senso che vengono comunque ancora descritti come hub istituzionali anche se rispetto a Roma c'è una differenza con Milano quindi noi su Roma stiamo sviluppando tutto un discorso che possa superare la difficoltà nella realizzazione della quarta pista con una nuova riperimetrazione del parco e su questo credo che Enac proprio con un tavolo presieduto dall'ingegnere Eminente sta già verificando quelle che possono essere le compensazioni tra la nuova perimetrazione e quello che verrebbe ceduto al parco ma soprattutto è evidente che si sta interloquendo con il Ministero per garantire che questo investimento da 8 miliardi possa trovare anche una regolamentazione tariffaria assolutamente adeguata io anche ieri domenica ho fatto una riunione col capo di gabinetto il capo di partimento e quant'altro proprio per parlare di quelli che sono il futuro di Roma su cui evidente c'è particolare attenzione nostra tanto che c'è anche tutto un problema legato al rifornimento carburante su cui facciamo particolare attenzione a che il prezzo del carburante non si sviluppi diciamo in maniera diciamo non adeguata proprio per garantire al lab di Fiumicino dove Ida va a posizionarsi anche un costo adeguato rispetto ai servizi credo per Milano sì proprio adesso dicevo Eminente ho mandato anche un whatsapp al ministro dove noi leggiamo da un'ansa che sala il sindaco di Milano andava a trovare il ministro per parlare lui del T2 rispetto al T1 noi abbiamo evidentemente un'interlocuzione in cui difendiamo Malpensa come hub e però è evidente che da tutta una serie di interlocuzioni con la società SEA vengono meno una serie di requisiti come proprio la chiusura del T2 e che evidentemente determina una situazione di sofferenza non marginale c'è tutto un problema di trasferimento poi da linate a Malpensa di personale perché lì si vogliono sviluppare uffici da dare ad altri operatori non aeroportuali quindi nell'ambito di questa discussione ecco è stato mandato al ministro ma possiamo mandare anche alla presidente della commissione una relazione su tutta una serie di situazioni di difficoltà di relazioni con SEA anche da ultimo sulla cessione a una società in aus dell'informatica il che evidentemente in un momento in cui c'è un timore per l'accaraggio pone a noi tutta una serie di questioni sul fatto che comunque l'informatica deve essere un servizio centralizzato proprio per garantirne al meglio diciamo un presidio utile a evitare tutta una serie di incongruenze ecco io su questo penso che posso aver dato le risposte che mi sono state chieste con le domande direi di sì l'onorevole Barbuto ha chiesto un'ulteriore precisazione brevissima perché è di questi giorni anzi di un altro discorso un servizio sulla stampa locale che evidenziava come Ryanair perché noi voliamo solo con Ryanair da Crotone praticamente sta facendo pagare dei biglietti per le stesse rotte che volano dalla mezzia terme tre volte tanto come prezzi rispetto a quelli che si trovano alla mezzia e che in questa situazione la responsabilità visto che è una rete come quella che viene auspicata anche sotto il profilo normativo come ci ha appena detto la di chi è della Ryanair oppure della società di gestione aeroportuale beh a oggi è il vettore che pratica il prezzo quindi noi non possiamo chiaramente l'interlocuzione con il gestore può essere una interlocuzione ecco che determina proprio quello che dicevamo prima un riequilibrio del costo di un biglietto rispetto a una destinazione aggiungendo qualche euro in un'altra destinazione quindi il tema del gestore unico chiaro che può determinare proprio situazioni in cui si trova un elemento di perequazione a noi all'epoca era anche stato segnalato che da Reggio Calabria rispetto a Roma c'era un costo di 350 euro dove da La Mezzia invece il collegamento ne costava 50 quindi è chiaro che questi elementi di non perequazione sono elementi che peraltro contrastavano con la stessa convenzione che era stata sottoscritta da EINAC nel rilasciare la concessione unica in cui tra le altre cose si dava come indicazione proprio a questa esigenza di un equilibrio tra le potenzialità dei tre diversi aeroporti stessa cosa che evidentemente accadrà per quanto sarà se del caso anche per la Sardegna appunto perché queste sono cose che rischiano di falsare completamente quelli che sono i dati per cui noi parliamo di elementi che non sono certi o potrebbero essere comunque dubbi da parte da parte della società di gestione ovviamente c'è una questione di non diciamo a livello di concessione di non andare a penalizzare un aeroporto rispetto all'altro perché chiaramente a livello di infrastrutture piuttosto che sviluppare come infrastrutture uno o due aeroporti rispetto al terzo ovviamente è una questione che è all'esame bene intanto io ringrazio l'avvocato Di Palma e l'ingegnere Eminente per il loro contributo e a proposito dell'approponimento che avete inviato al Ministro se è possibile averlo anche come Commissione ve ne siamo grati grazie e dichiaro conclusa l'audizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti